A Paternò, anche con gli Andrani, con la realtà, è già un'opera strategica di fondamentale e le informazioni, le informazioni e le mobilità sostenibili e le informazioni di un'opportunità ambientale e così qui perché io sono convinto che in 2020 si avranno la sforza della mobilità della nostra città attraverso una prese di un'opportunità e in colla con una forma di un'opportunità di un'opportunità e di un'opportunità di un'opportunità di un'opportunità quindi oggi siamo qui a festeggiare questo don e ringraziare il Governo nazionale per il migliorio per il risultato di questo don che posso attraverso una delle capacità di rinnovazione e per questo senso che intendo che farà presentare questo don e per questo senso di un canale E' un meraviglioso momento. C'è stato un grosso lavoro fatto dallo Stato, governo nazionale, regione, provincia regionale di Catania e tante associazioni. Ce lo chiedevano tutti. Le nostre comunità avevano bisogno di questo intervento e è arrivato. Lo saluteremo nel 2026, ma riuscire a collegarsi con il popolo in pochi minuti, eliminando tutte le criticità per i nostri commercianti, imprenditori, studenti, credo che sia una notizia meravigliosa. E la buona politica che salutiamo con favore è quello che si aspettano i concittadini di questa comunità. Sì, stasera per la manifestazione. Mario, la rifacciamo, fin da un attimo. Non è limitata, questo è il primo. Sì, la verità è la stessa cosa. La data domanda era la mia, quindi... Un bel momento per Paternò per tutto il popolo del giorno riuscire a raggiungere in pochi minuti il popolo senza le criticità, senza i problemi. L'insicurezza perché non è anche più il problema di poter parteggiare. È un risultato bellissimo per i nostri studenti, per i nostri commercianti, per i nostri imprenditori. E poi riuscire anche a arrivare dal popolo alla nostra comunità, alla nostra città, al centro, perché noi è stata prevista anche una fermata nel centro, nel cuore della nostra città. Una risposta meravigliosa, la saluto veramente felicemente, è quello che si aspettano da noi, i nostri progetti. Grazie Sindaco, anche per la ripetizione, sa, per la storia non è buona. Grazie.